Pronto? Buongiorno signora. Scusate, siete quella della Vodafone? Sì, sognare con il mare Catozza da Calabria. Sentite, ma che testo Gala che si sente, no? E siccome che mi dico che ho un attacco a riti, che vai più veloci. Sì, ma io sogno di attaccare a riti. Ma no, io vai veloce questo telefono con il mare. E come dico, come dico, io vi mando le mie, volete una mela? Io le mie con il mare non ho io. O più alti vi posso mandare una cucuzza. Se volete la cucuzza, la mando con il mare. Sì, ho posto da mela e vi mando la cucuzza. Sì, comare? Vi ringrazio assai, comare. Arrivederci a tante belle cose. Grazie a tante belle cose. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.